La principessa del Galles potrebbe essere vista nella sua tiara nuziale e non appena parteciperà al suo primo banchetto di stato quando il presidente del Sudafrica visiterà il Regno Unito la prossima settimana. Re Carlo III ospiterà la prima visita di stato del suo regno la prossima settimana, quando il presidente del Sudafrica farà visita al Regno Unito. Kate Middleton e il principe William avranno entrambi un ruolo chiave nel salutare il presidente ramafosa a nome del re martedì 22 novembre. Martedì sera ci sarà un banchetto di stato ottenuto dalle loro maestà. Dove saranno presenti sia il re Carlo che il presidente sudafricano? Dovrebbe fare discorsi. Questo banchetto di stato sarà il primo per Kate dal 2019, poiché sono stati sospesi a causa della pandemia di coronavirus. Ciò significa che indosserà sicuramente una tiara per l'occasione, come è consuetudine per le donne reali. La fan di Royal Chiocciola Academy di Style ha twittato, solo per farvi sapere che questo significa ufficialmente che vedremo Kate con una tiara la prossima settimana. Correggetemi se sbaglio ma non credo che lei ne indossa uno da dicembre 2019? Sono tre anni gente, leggi di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.